Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di MeteoInCalabria.it. I prossimi giorni saranno al sapore quasi stivo, infatti le temperature massime subiranno un netto rialzo, scaturito da un richiamo di aria calda subtropicale, attivato da un vortice di bassa pressione presente sulla penisola iberica. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Oggi generale condizione di cieli sireni, durante il corso della giornata possibile momentanee coperture per il passaggio di nubi alte e stratificate, temperature in aumento di qualche grado. Domani cieli per lo più poco nuvolosi, durante il corso della giornata aumento della nuvolosità per il passaggio di nubi alte e stratificate, temperature in rialzo in alcune località si raggiungeranno picchi vicino ai 30 gradi. Ora il concetto sguardo a mari e venti. Oggi mari poco mossi, nel corso della giornata aumento del moto ondoso a partire dai bacini meridionali, venti da deboli o moderati dai quadranti meridionali. Domani mossi o molto mossi con venti moderati di scirocco. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per l'appuntato di oggi è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.